Dovevano arrivare su degli incrociatori da guerra e dovevano incontrarsi sulle loro grandi navi, in realtà alla fine a causa di una burrasca irresistibile si ritrovarono su una nave da crociera di lusso, lo scenario era meno suggestivo, ma il risultato fu davvero storico, a Malta quel giorno George Bush senior e Mikhail Gorbachev siglarono una pace che significava la fine della guerra fredda, erano passati 24 giorni dalla caduta del muro di Berlino e tre anni dopo Francis Fukuyama avrebbe scritto un libro per spiegarci la fine della storia e il trionfo delle democrazie liberali, col seno del poi possiamo dire che quel giorno ci fu una svolta decisiva, ma la storia non finisce, la storia continua e purtroppo è anche una storia di guerre, oggi l'illusione del trionfo delle democrazie liberali si misura con la proposta aspra, spigolosa delle democrazie illiberali, la storia continua e non è detto che continui nella direzione migliore, serve proprio metterci del nostro.